ciao a tutti vi avevo promesso un video ogni tanto questo mese voglio fare questo filone con queste farine che mi sono rimaste devo usarle per rinnovare un pochino quindi le vado a miscelare e mettere in autolisi direttamente con i licoli poi copro e le tengo 20 minuti passato il tempo vado in planetaria ho messo la foglia all'inizio metterò la foglia e metto ancora un pochino d'acqua di acqua e faccio girare aggiungendo la restante la restante acqua piano piano a filo in questo modo poi aggiungerò anche il sale metto il cucchiaino di sale che sono all'incirca 7 grammi però se vi piace più saporito deve anche metterne un pochino di più ok continuo a girare con la foglia fino a che l'impasto si attorciglia sulla foglia ecco il sale metto ancora acqua mi regolo con l'acqua perché sono tre farine diverse quindi non è standard la dose di acqua che vogliamo mettere magari quindi sento testo la morbidezza con il dito un'altra pochina lo posso anche mettere poi vi metto la dose giusta siamo intorno comunque al 70 per cento di idratazione ho messo il gancio e continuo a girare per portare l'incordatura ci vorranno all'incirca dieci minuti volevo scusarmi per le undie scusatemi però vi avevo già detto che ho una nipotina che si esercita sulle mie mani con il gel con i guanti non riesco a lavorare ho provato ma si lavora male allora una volta pronto l'impasto ho agliato questo contenitore un pochino e faccio due giri di pieghe in questo modo dopodiché lo copro e lo lascio lievitare deve non dico raddoppiare ma insomma deve crescere quindi lo lascio tre ore quattro dipende molto dalla temperatura vediamo il tempo che ci vuole a dopo bene eccoci qua all'incirca quattro cinque ore come sapete dipende dalle temperature quindi a seconda del periodo della temperatura che avete in casa non è che dovete rispettare per forza i miei tempi allora provo un attimo con il guanto ma insomma allargo l'impasto lo metto sulla pietra o sul piano di lavoro e faccio un primo giro di pieghe pieghe le classiche pieghe a tre a portafoglio ecco qua poi piego ancora è molto morbido come vedete queste sono la farina di grano corasan e il farro anche con il farro rimane l'impasto così morbido bene farò due giri di pieghe con copro vedete con la ciotola con un riposo di 30 minuti circa tra l'una e l'altra ok dopo i due giri di pieghe se necessario anche tre ma questo impasto vedo che due possono bastare che bello ben lievitato quindi procedo per formare il filone io farò un filone ma se volete fate una pagnotta a noi piace più il filone che a meno c'è meno mollica a mio marito piace più il filone ok allora largo per benino e poi piego in questo modo vedete ci sono diverse bolle di lievitazione appiccico un pochino però metto un po di farina sulle mani ecco qua un po di semola e continuo a rotolo ok una volta chiuso per bene lo metto ho preparato già il cestino un po lunghetto non so se ci va nel cestino vediamo altrimenti potrei anche rimetterlo in un telo e lasciarlo così lievitare in un telo stretto però adesso userò questo cestino va messo sempre con la chiusura in alto ho messo la semola in modo che non si attacca ed eccolo qua dopo circa tre ore vedete quasi pronto adesso accendo il forno per portarlo a temperatura e intanto il filone continua a lievitare bene adesso lo preparo preparo la pala con la carta forno in modo che poi lo faccio scivolare direttamente nel forno procedo così giro il cestino vedete come bello sostenuto quindi è proprio al punto giusto di lievitazione nel frattempo il forno sta a temperatura 250 gradi ho programmato due spruzzi di vapore altrimenti date una spruzzata prima di infornare con lo spruzzino oppure mettete un pentolino va bene lo stesso faccio soltanto un taglio veloce così senza disegnini e faccio scivolare eccolo qua ho programmato 50 minuti sono andata con i due spruzzi di vapore adesso quando posso aprire lo giro così si vede meglio vedete si sta già gonfiando seguiamo un pochino la cottura io lascio a 250 gradi vedete sono passati già cinque minuti per 30 minuti qui già siamo quasi a mezz'ora poi tolgo la carta forno adesso posso aprire avete visto oggi l'ho girato in modo di vederlo meglio ed eccolo qua gli ultimi dieci minuti ho messo a spiffero per farlo asciugare un pochino ho abbassato gradualmente 220 poi a 200 a noi piace bello colorito altrimenti abbassate prima la temperatura ok ed eccolo vedete com'è bello l'ho messo su una gratella a farlo asciugare ben cotto però come dicevo invece di lasciare a 250 gradi per per 30 minuti circa abbassate prima se lo volete più chiaro questo dovete regolarvi da soli naturalmente l'ho fatto prima raffreddare un pochino eccolo qua beh io direi a parte quei buchini forse non ho chiuso bene direi che va bene no è ben cotto bello croccante e dentro è asciutto ok bene amici vi ringrazio della visione vi invito a condividere il video a lasciare un like e vi invito naturalmente a guardare comunque i miei video i video fatti in precedenza basta andare sulla playlist e trovate tutto quello che volete per quanto riguarda il pane e la bassa madre ciao a tutti